Ben rientrati in studio per la pagina sportiva. Colpo grosso del Varese che nel turno di recupero del campionato di Serie D vince 2-0 a casa del Vado, diretta rivale nella volata per la salvezza. I biancorossi hanno segnato con Capelli e Otele, non rischiando quasi mai. Domenica la squadra di Ezio Rossi tornerà al Franco-Ossola per il derby contro il Legnano. E cambiamo l'argomento e parliamo di basket. È uno spezzatino il turno infrasettimanale della Serie C Gold di basket che comincia oggi ma che si dilaterà anche nei prossimi giorni. Ecco dunque tutte le partite da seguire e le squadre lombarde a caccia di un posto nei play-off. Prossimo turno del campionato di C Gold, un campionato che continua ad essere molto veloce, rapido, si gioca praticamente sempre, che si giocherà tutto nell'infrasettimanale. Dunque a partire da mercoledì, da oggi per arrivare fino a sabato per poi concludere. Andiamo velocemente a vedere la panoramica di tutte le partite, di tutti e tre i gironi. Si comincia nel girone A con Pizzighettone-Olimpia-Lumezzane, poi ci saranno Romano-Soresina e Brescia-Virtus-Lumezzane. Nel girone B, Cermenate-Palmilano, Busnago-Cernusco, Desio-Socialosa e Bocconi-Lissone. Invece nel girone C, Legnano-Gazzada, il derby saranno Gallarate di mercoledì sera, Valceresi-Ovarese-Mortara-Milano 3. Per cosa si gioca? Fondamentalmente per il posizionamento all'interno dei play-off. Lo ricordiamo sempre, le prime quattro dei tre gironi parteciperanno ai play-off per la promozione in serie B, prendendo con loro anche quattro classificate del girone piemontese. Questo è il turno infrasettimanale, tanto basket nelle palestre della nostra zona, tanto basket di Sierci Gold, quello che ci piace a noi. Oggi Beppe Sannino allena una squadra greca, ma proprio dieci anni fa stava inseguendo il sogno della Serie A con il Varese. Questa sera, nella nuova puntata di Vincere, Ciccio Baiano parlerà proprio dell'allenatore di cui è stato vice tra il 2010 e il 2011. Non considererà soltanto il passato, ecco un'anticipazione. Ma sei stato anche un grande professionista con la San Giovanese di Giuseppe Sannino in Serie C. A San Giovanni, sì, ho giocato sei anni, sono stati sei anni meravigliosi perché giocavo per divertirmi. Veramente ho conosciuto due persone meravigliose. Una era il presidente Casprini, veramente un presidente che mi ha accolto in un modo incredibile, persona straordinaria. E la seconda è Beppe Sannino, un grande allenatore, grande persona e subito scattato un legame fortissimo. Infatti la prima cosa che mi ha detto quando sono arrivato nello spogliere, mi disse, ma come ti devo trattare? Come ti devo trattare? E io gli dissi, questa frase gli è rimasta nella mente, ma infatti anche quando poi ho avuto l'onore di fare il suo secondo, me lo diceva sempre, quando parlava con gli altri gli diceva. Quando io la prima volta ho parlato con Ciccio, Ciccio che ha quel curriculum da calciatore, lui mi ha detto, e io gli ho detto, ma come ti devo trattare? E lui mi ha risposto, tu mi devi trattare come gli altri o peggio degli altri. Nel senso che quando hai da dire qualcosa o rimproverare un calciatore, ti improvera me così pigli forza nei confronti del gruppo. Questa cosa l'ha sorpreso, è rimasto veramente, non lo so, ha colpito al cuore questa cosa da qui, che è nato un rapporto fortissimo e che dura ovviamente ancora di più adesso, perciò due persone straordinarie. Mi sono levato tantissime soddisfazioni anche lì a San Giovanni, sono andato in C2, venivo dalla Serie B, sono andato in C2, ho vinto il campionato di C1, di C2, l'anno dopo in C1 ho trovato Sardi, un'altra persona molto importante. Anche con lo sport abbiamo terminato, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento insieme a Rete55. Grazie, arrivederci.